Ciao ragazzi bentornati sul canale siamo di nuovo qui per parlare di un giovane calciatore ma questa volta veramente tanto 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 giovane prima però di entrare nel vivo della questione mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace al video se vi piace e attivate la campanellina grigia delle notifiche per rimanere sempre aggiornare su attività del canale vi lascio anche sia sopra che sotto i link dei miei video precedenti e anche il link al mio secondo canale vale a dire Inside Football dove parlo di calcio italiano serie A e comunque di calcio mercato insomma una visione generale del calcio nostrano però in lingua inglese quindi come se fosse un calcio italiano di esportazione mi raccomando se siete pratici della lingua passate ovviamente a darci uno sguardo un progetto appena avviato quindi ci vorrà un po' di tempo per avviarlo bene mi raccomando quindi vedete i video se capite la lingua ovviamente spolliciate e iscrivetevi prima di parlare di questo giocatore però è duopo fare un piccolo cappello una piccola introduzione negli ultimi 2-3 anni stiamo assistendo a un processo di scandinavizzazione diciamo di del calcio italiano o comunque di alcuni club che stanno particolarmente investendo nei giovani scandinavi o comunque un giocatore scandinavi soprattutto il Lecce e il Venezia vi faccio alcuni nomi Jensen, Bjarnason, non quel Bjarnason Bjarkason, Björkengren, Juhlmann Millemecki, Mainpeh tanti giocatori che da Norvegia Svezia, Finlandia e Islandia comunque stanno venendo qui in Italia più o meno giovani che siano sicuramente vi sarà un incremento secondo me di tale fenomeno in quanto comunque abbiamo visto le ottime prestazioni di Svezia e Danimarca negli ultimi europei e comunque abbiamo visto anche della valorizzazione di alcuni giovani mi aspettavo un po' di più da Wind, da Danimarca oppure da Scovolse sempre da Danimarca Danz Gort ha veramente stupito un po' tutti ma anche nella Svezia abbiamo visto delle sorprese come Dania sono 89 messi in difesa comunque Kulusevski che dopo il problemino del Covid comunque è entrato anche ottivamente Alexander Issa che comunque è esordito nell'HK Stoccolma veramente ormai anni fa tanti anni fa in quanto aveva appunto 16 anni però un altro club che sta investendo molto e sta puntando molto sui giovani Scandinavi è l'Atalanta l'ultimo dei casi diciamo Kulusevski comunque abbiamo visto che dopo le ottime prestazioni con la primavera è poi passato al Parma e conseguentemente la Juventus ha risputato comunque appunto un buon europeo probabilmente un po' condizionato anche dal Covid ha messo in mostro un po' i suoi difettucci quindi va a dire un po' innamorata a volte la palla dei migliori elettori di gioco però comunque sempre un grandissimo talento ebbene sì l'Atalanta si è ripetuta perché è notizia di oggi che il club che è la Dea ha acquistato dal Bredeblik una riete classe 2005 esattamente primo gennaio 2005 va a dire Birkir Jakob Jonsson un giocatore islandese che un attaccante islandese che fondamentalmente diciamo ricalca un pochino le orme di altri centravanti islandesi va a dire rappresenta una sorta di trait d'union di fil rouge soprattutto a livello fisico tipico di attaccanti islandesi infatti appunto a 16 anni parei di statura insomma è anche abbastanza superflora perché a 16 anni un giorno salta un 80 e due giorni dopo salta un 83 quindi non parliamo di visicità parliamo semplicemente di di sua statura che attualmente è superiore alla media che è senza parola di numeri però ho visto anche le partite quando giocavo appunto con il con il bretablick che comunque rispetto agli avversari aveva comunque quei 3 4 5 centimetri in più parliamo di un giovane che si deve riempire ancora fisicamente che deve lavorare sodo però che appunto ricalca questo fil rouge vi faccio alcuni nomi Yonda di Bodvarsson Colby Sigtorsson e l'ultimo diciamo il più giovane classe 98 Svein Aaron Gudjonsen il figlio del famosissimo Gudjonsen ex Chelsea et Barcellona un attaccante longilineo che però sa comunque utilizzare bene le lunghe leve buone bravo nella posizione di palla diciamo che ha questo dna da trattore tutto tipico islandese quindi vai a dire quando l'avversario ti si attacca addosso lui se lo tira dietro quindi un altro nome è anche Free Johnson che ultimamente ha lasciato l'Italia però anche lui sembra attaccante islandese che comunque ha calcato seppur per poco tempo i nostri palcoscenici un attaccante bravo nella progressione non rapide falcato ovviamente perché avendo questa muscolatura molto longe linea adora si intende adora con queste grandi falcate insomma diciamo che tiene a bada più ottenimenti avversari nonostante ciò ha comunque un buon piede soprattutto è destro è di piede destro anche se comunque ha mostrato sta mostrando delle buone dotte anche di sinistro ovviamente sempre diciamo migliorabili ovviamente perché si parla comunque di un giocatore molto giovane essendo un 25 quindi 16 anni che facendo leva sulla qualità dei preparatori dell'Atalanta sicuramente migliorerà molto ovviamente a questa età fa anche molto il discorso mentale quindi quanto un giocatore si sappia adattare in giovane età a una realtà completamente diversa ma sicuramente ipotizzando in un settore giovane dell'Atalanta che venga utilizzato un attaccante fisso comunque un fulcro del gioco come può essere un piccolo zapata ecco Johnson può essere l'ideale non è neanche raro vederlo a volte svariare un pochino sulle fasce ma non proprio allargandosi sulla linea laterale bensì decentrandosi lievemente per aprire spazi per centrocampisti è un attaccante di supporto molte volte quindi tende un po' rientrare per proteggere palla certo è che mostra anche delle buoni doti appunto utilizzando il fisico per girarsi quindi proteggere palla e girarsi e molto di più non si può dire perché non è un ragazzo di 22 23 anni che comunque al 75% è quello abbiamo visto giocatori che sono nati in un certo ruolo poi sono stati spostati quindi che ne so magari da qui a due anni si scopre che Johnson piuttosto che un attaccante verrà messo come mezzala per 5000 motivi faccio giusto un esempio ma per farvi capire con questa iperbole che parlare tanto di doti fisse per questi giocatori è veramente inutile questo video semplicemente per farvi per presentarvi darvi delle nozioni ulteriori su questo giovane attaccante che molti di voi suppongo che non conosceranno quindi ecco per farvi un po' capire com'è il giocatore quindi grande fisicità protezione di palla buon senso del gol può migliorare di sinistro bravo col destro ma va costruito va riempito un attaccante che diciamo lo associo molto a Jonsson non è islandese mi ricorda molto Torre Andre Flo classe 73 ex Chelsea che poi ex nazionale norvegese ovviamente che giocò con noi giocò contro l'Italia nel 98 se non erro Francia 98 quindi e che ha giocato anche a Siena quindi classico vikingone alto spirulungone forse in prospettiva penso che potrebbe diventare un po' più fisicato soprattutto nella parte superiore del corpo rispetto a Torre Andre Flo giocatore che io ho amato dall'inizio spero ovviamente che questo video vi sia stato utile in tal caso lasciatevi un piaccio iscrivetevi al canale condividete campanellina e iscrivetevi al secondo canale Inside Football vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video